Il Corecom ha inaugurato, nella sede dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Regione a Cuneo, in corso Kennedy, il nuovo servizio di web conference per la conciliazione gratuita sulle controversie tra privati e gestori telefonici. Gli utenti non sono più obbligati ad andare a Torino, ma possono collegarsi telematicamente con il conciliatore, con risparmio di costi e di tempo. Il Corecom ha scelto di parlare con tutte le province, nel senso che ci siamo resi conti dai dati che gli abitanti delle province non torinesi hanno usufruito del servizio del Corecom in percentuale inferiore rispetto alla provincia di Torino. Quindi ci siamo posti a questo problema, abbiamo cercato di risolverlo come andando noi all'interno delle province a parlare con le testate delle province per raccontare quello di cui ci occupiamo. In prima istanza, sicuramente rispetto al servizio di conciliazione e definizione, si evince che un terzo della popolazione della provincia di Cuneo utilizza percentualmente in meno rispetto agli abitanti della provincia di Torino. In secondo luogo, vogliamo far sentire fortemente a tutte le province, in questo caso la provincia di Cuneo, che noi siamo presenti sul territorio, sia per il monitoraggio delle emissioni del servizio radio televisivo, e in secondo luogo anche della percezione, della ricezione del segnale televisivo, in particolare della RAI. Per fortuna, da una nostra ricerca, abbiamo evinto che solo il 9% degli abitanti della provincia di Cuneo non ricevono il segnale RAI e fortunatamente è decisamente bassa la percentuale di abitanti che ricevono un segnale proveniente da una regione sbagliata.